Se riscontrate problemi su Easy Anti Cheat su Fortnite, quindi in questo caso se vi esce un errore del genere come questo qua, ad esempio avviate il gioco e si chiude perché non ha avviato l'Easy Anti Cheat, quindi se non si avvia l'Easy Anti Cheat non si può avviare il gioco. Quindi in questo caso se vado anche sulla pagina di Epic Games, il driver Easy Anti Cheat è un'impostazione di sicurezza impedisce il caricamento del driver che neanche Epic Games riesce a capire qual è l'errore. Quindi in questo caso possiamo risolvere noi facendo alcuni passaggi, quindi andiamo un attimo nella cartella di AppData, però prima di fare questo chiudiamo un attimo Epic Games. Andiamo un attimo su Esegui, entriamo così nella cartella AppData, quindi scrivi Percento, Shift più 5 per fare Percento, fai AppData e fai OK. Vai in AppData, vai in Local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite, quindi vai a scrivere Fortnite Game ed eccola qua, questa è la cartella di Fortnite. Cangella la cartella di Fortnite Game. Una volta fatto, elimina anche la cartella di Epic Games Launcher e Epic Games. Ovviamente una volta eliminato le cartelle poi devi rifare l'accesso al tuo account, quindi devi solamente fare il login. Chiudiamo un attimo qua, ora andiamo su Servizi. Andiamo fino a giù fino a trovare così l'Easy Antichit di Epic Online Service e l'Easy Antichit di questo qua. Ci clicchiamo sopra, tipo di avvio, metti automatico e facciamo avvio. Impossibile avviare il servizio perché non c'è nessuna applicazione che sta usando questo servizio, quindi per ora è arrestato. Stessa cosa lo facciamo anche con quest'altro automatico, vediamo cosa ci dice. E' avvio, quindi si è arrestato, alcuni servizi si arrestano automaticamente se non sono utilizzati da altri servizi o programmi. Quindi io adesso non sto usando nessun programma che sta utilizzando l'Easy Antichit, quindi a me l'Easy Antichit funziona. Se a te invece non esce questo errore qua, vuol dire che te l'ha fatto avviare. Metti pure qua automatico. Ora andiamo direttamente nella cartella di... Quindi adesso facciamo l'accesso al nostro account Epic Games. Quasi tre puntini nella libreria dove tieni Fortnite. La gestisci. Entriamo nella sua cartella. Foghat Net Game. Binalis. 64. Clicca due volte su l'Easy Antichit. Prova anche ad eseguirlo come amministratore. Vai sul certificato. Installa certificato utente corrente. Vai sempre avanti e fai fine. Una volta importato e installato il certificato, eliminiamo così la cartella dell'Easy Antichit e fai la verifica. Una volta verificato il gioco, vi fai la stessa cosa che ho fatto sull'Easy Antichit, quindi avvia l'Easy Antichit, eseguilo come amministratore e importa di nuovo il contratto. Quindi facciamo la verifica e aspettiamo. Una volta ho fatto come ho detto, fa quella cosa che ho fatto sull'Easy Antichit. Chiudi il programma Epic. Esegui Epic Games come amministratore. Ora, può essere anche che l'antivirus di Windows, quindi Windows Defender, può bloccare così la cartella eliminando alcuni file nella cartella di Fortnite e quindi non si avvia. Entra su Windows Defender, su Windows Defender, protezione da virus e minacce, impostazione di protezione da virus e minacce, gestisci impostazioni, esclusioni. Quindi diamo così un'eccezione alla cartella di Fortnite e aggiungi un'escursione. Fai cartella e metti quella di Fortnite. Se non dovesse funzionare, riprova di nuovo la verifica e riavvia il sistema. E adesso possiamo avviare la fortale. Come puoi vedere, l'Easy Antichit è in esecuzione. Si sta avviando anche Fortnite. Quindi se questo servizio è arrestato e tu stai avviando il gioco, vuol dire che questo servizio non funziona. Quindi il gioco si è avviato, avvio di Fortnite. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!